Buongiorno a tutti, giovedì 6 luglio, giornata molto importante per i principali mercati europei e statunitensi perché siamo su massimi di periodo, ma le minute della Fed ieri hanno confermato la politica monetaria restrittiva per cui sostanzialmente almeno un rialzo di 25 punti base già nella prossima riunione e più che ieri gli indici americani stanno prendendo male questa conferma dell'essere falco da parte della Federal Reserve gli indici asiatici e anche i futures in Europa non sono di certo brillanti e già avevano iniziato una correzione, seppur finora leggera, questa settimana, quindi dobbiamo subito verificare se le ex resistenze per quanto riguarda il Futsimib Futures Area 28100 riusciranno a svolgere in maniera egregia il loro nuovo ruolo di supporti, però come sapete io, grande amante di Giulio Rappetti in arte mogol, lo scopriremo solo vivendo. Prima di iniziare me lo hanno fatto notare in tanti, io ovviamente essendo un informatico a dir poco scadente non mi interesso in realtà di queste dinamiche, però sembrerebbe che l'algoritmo di YouTube guardi anche tra i tanti fattori i mi piace. Questo canale è uno di quelli che ha più visualizzazioni in base al numero degli iscritti, siamo più o meno a un terzo e quasi nessun canale riesce a fare questi numeri, però a pochissimi like. Io non sono un amante del like a prescindere, però siccome costa poco, magari cerchiamo di far raggiungere ai video almeno i 200 like, meglio ancora superarli, perché da quello che mi hanno spiegato quelli bravi sarebbe un modo di aiutare, ripeto, gratuitamente la crescita di questo canale. Condividiamo subito però lo schermo perché ci sono tanti argomenti di cui parlare. Iniziamo dagli indici americani, probabilmente il Dow Jones sta cercando di andare a chiudere il gap lasciato aperto a 34.147. Se dobbiamo dare dei livelli di supporto importanti, al di là della rialzista partita dai minimi del primo di giugno, sicuramente 33.828, 33.755, 33.730 e poi 33.610. Considerate che a 33.646 c'è anche la media mobile a 50. Standard & Poor's 500. In questo caso la situazione è meno, diciamo, critica, non che quella del Dow lo sia particolarmente, però siamo veramente sui massimi. Però anche qui vedo la voglia di tornare a 4.422 e poi a chiudere il gap a 4.398. Andiamo al Nasdaq Composite, in questo caso il livello importante per le prossime sedute è 13.716, che è il minimo delle ultime tre sedute, dopodiché abbiamo una chiusura gap a 13.618, quindi 13.540, 13.495. Nasdaq 100, in questo caso 15.081 il minimo delle ultime tre sedute, chiusura gap a 14.986, quindi 14.876, 14.865. DAX, in questo caso la situazione è ovviamente più critica perché probabilmente dopo un minimo di ieri a 15.901, oggi, probabilmente già oggi, chiuderà il gap a 15.895 e poi proverà a portarsi sul minimo del 26 di giugno che è 15.713. Tra l'altro a 15.712 c'è anche la media mobile a 100. Caccarant, anche qui la situazione non è così brillante per il brevissimo, perché la chiusura di ieri è stata poco sopra la media mobile a 100, 7.303, credo che possa in questo caso raggiungere 7.288, poi 7.250 e chiudere il micro gap lasciato aperto a 7.236 sul massimo del 27 di giugno. Eurostox, qui sotto 4.341 avremo una media mobile a 50, 4.326, poi 4.328, 4.272. Eurostox, dopo il massimo di periodo di martedì a 109.63, adesso è probabile un ritorno a 106.19, poi media mobile a 100, 105.84, minimo del 29 di giugno a 104.61. Fuzzi Milfutures ha chiuso sotto il minimo di martedì, che era stato 28.415, quindi è molto probabile un ritorno fino a 28.130, 28.125. Sotto ovviamente c'è poi l'area 28.100 di supporto, però si rischia anche a breve di andare a 27.735. Queste visioni ribassiste di breve vengono al momento confermate dai futures, perché vedete che il DAO fa meno 0.30, meno 0.29, Standard & Poor's 500 meno 0.32, Nasdaq 100 meno 0.39, Russell 2000 meno 0.59, DAX meno 49, Eurostox meno 0.50. Guardiamo un attimo da sfera il Fuzzi Milfutures, siamo già a meno 0.54. Andiamo a vedere in Asia, perché oggi stavano soffrendo i principali indici asiatici, Nikkei meno 0.49, Topix meno 1.28, Hang Seng meno 2.39, Singapore meno 0.58, Cospi meno 0.91. Ci sono diverse notizie macro, perché oggi è una giornata abbastanza ricca, in Europa c'è abbastanza poco, forse le vendite al dettaglio alle 11, previste a più 0.2 da invariate per il mese di maggio, ma ovviamente la nostra attenzione deve essere sugli Stati Uniti, perché alle 14.15 avremo la variazione dell'occupazione in agricola ADP per il mese di giugno, previsti più 228.000 posti di lavoro, a fronte di più 278.000 della rilevazione precedente. Alle 14.30 avremo le richieste iniziali sui sussidi di disoccupazione, previsti in crescita, 245.000 da 239.000. Poi passiamo alle 15.45, indici dei direttori di acquisti del settore terziario per il mese di giugno, 54.1, previsti da 54.9. ISM non manifatturiero alle 16 per il mese di giugno, previsto a 51.000 da 50.3. sempre alle 16 nuovi lavori JOLDS per il mese di maggio, previsti in calo a 9.935.000, e poi alle 17, per una questione di calendario, ovviamente il mercoledì, però lunedì c'è stata la giornata semifestiva per cui sono state spostate ad oggi, le scorte di petrolio greggio. Adesso andiamo alle notizie price sensitive e abbiamo da parlare di Stellantis che ieri ha tenuto il supporto, ma se oggi dovesse andare sotto 16,026 io chiuderò in stop profit. Secondo il CEO Carlo Tavares, la decisione di Pechino di limitare l'esportazione di due metalli ampiamente utilizzati nei semiconduttori nei veicoli elettrici non dovrebbe spingere le aziende occidentali ad accelerare gli sforzi per ridurre la loro esposizione alla Cina. Ha presentato STLA Medium, una piattaforma Bev by Design concepita per elettrificare il mercato globale. Graficamente, ripeto, c'è questo livello qui fondamentale di 16,026, sotto si va direttamente alla media mobile a 115,764 e poi sul minimo del 29 giugno 15,532. Poi usciamo fuori dal Fuzzimib e ci occupiamo di Saffilo che ieri ha tenuto il supporto fondamentale di breve periodo che era quello del primo di giugno, 1,176 ha fatto 1,174 ma poi ha chiuso 1,179. Saffilo ha annunciato che sulla cessione dello stabilimento di Longarone sono in fase avanzata trattative con l'imprenditore Carlo Fulchier che congiuntamente alla potenziale operazione con Tedios consentirebbe la conservazione del know-how del sito e la totale ricollocazione degli attuali 458 lavoratori. Tedios punterebbe ad acquisire la parte di stabilimento dedicato alla Galvanica e a tenere circa 250 lavoratori, mentre Fulchier sarebbe interessato alla parte dello stabilimento dedicato al fissaggio e al resto dei lavoratori secondo una fonte vicino alla situazione. Allora, se tiene questo supporto il titolo può rimbalzare sicuramente, adesso vedremo anche i livelli, però il rischio è di vederlo prima a 1,144 e poi a 1,032. In caso di rimbalzo, direi che può arrivare fino alla media mobile a 50 che è 1,296. Però la notizia è già iniziata a circolare ieri nel tardo pomeriggio. Concludiamo con due situazioni, una delle quali ci siamo già occupati ieri, ovvero Saras che ha ovviamente dato un segnale molto importante dal punto di vista tecnico perché fondamentalmente ha superato sia la media mobile a 200, 1,238 che ha avvicinato quasi quella a 100 a 1,274. Poi ieri comunque ha chiuso anche il gap lasciato aperto 1,245. Il prossimo target è area 1,30. È il massimo del 15 di maggio che è proprio 1,30. Diciamo che se dovesse partire lo short squeeze che vi ho spiegato ieri, si potrebbe arrivare fino al massimo del 4 di aprile che è 1,4005. Concludiamo con Industria Denora che è qui. Il prezzo finale del lipo di Nucera joint venture per le tecnologie di idrogeno a idrogeno tra Denora e la tedesca Thyssen Group è stato fissato 20 euro per azione con una capitalizzazione in mercato di 2,53 miliardi di euro. Ora io voglio essere estremamente onesto con voi, come mio solito non ho seguito benissimo questa vicenda per cui non so se sia una joint venture paritaria o meno. Di certo 2,53 miliardi non è assolutamente poco. Il titolo sta provando a dare un segnale di ripartenza. È stata molto importante la seduta di lunedì con questa Dragonfly minimo 18,67 poco sotto, ma pochi tic sotto la media mobile a 100, ma poi chiusura 19,17. La mia idea è che possa proseguire questa fase di recupero prima 19,73 poi chiusura gap 19,80 e se non i massimi del 12 di giugno a 21,7 magari fino a 20,66, 20 e 68. Per questa mattina ho concluso, vi aspetto più tardi su Classi NBC, auguro a tutti buon trading e noi ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno.